No, no, no. Ok, ciao a tutti. Siamo qui a Monzuno, io sono Saphir, tra un pochino arriva anche Giovanni, ci sono i primi che però non sono gli unici partecipanti al cammino. Allora, primo cammino italiano tra Diego e Villaggi ce lo stiamo facendo a partire. Un pochino in ritardo, però va bene. Dove andiamo oggi Giovanni? Oggi andiamo a Merachi, la prima comunità che andremo a visitare e domani ci ricollegheremo di nuovo da Merachi con loro, però in loro compagnia. Ok, per cui questo è il video però per la partenza del cammino, ma in realtà da domani saremo presso le comunità. Quali sono le comunità che vedremo? Merachi, poi abbiamo l'Alder della Vita, Navi, Centro della Terra, la Valle degli Elfi, Ciricea, Tarole e Davalon. Ok, da ciascuno di queste faremo una diretta con il gruppo, non sempre gli stessi. Oggi abbiamo il primo Manipolo che si presenta, poi avremo delle comparsate al volo. Vai, 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 iniziamo a dire un po' di nomi, da dove veniamo, eccetera. Gianluca Vigevano. Ok, vi passate il microfono ragazzi così non lo tengo io. Adesso facciamo il trio. Ilaria da Brescia. Ilaria da Varese. Ilaria da Vigevano. Ilaria. Ilaria da Luca. Paolo, Fiorenze, Torino, Sartegno. Ok, e poi gli altri, vai, vai. Comparse, comparte. Ilaria da Firenze. Enrico da Brescia. Ilaria. Ma girate la camera voi. Sì, 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 lo stanno facendo. Sara da Milano. Le altre persone le scopriremo man mano che vi saremo gli altri compagniaggi. Però di tutto, direi che dai, celebriamo. In realtà questa è quasi la seconda diretta perché la prima è venuta un po' di nuovo così, ma va bene sulle cose tecnologiche. E quindi vi salutiamo e vi accorgiamo di vederci domani alle 18.30. Per cui per noi buoni passi e per voi seguite questo cammino meraviglioso fra le comunità. Vedremo come saremo domani. Avremo la stessa cera brillante. Oppure no, lo scopriremo. Lo scopriremo. Ciao, ciao. 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 Grazie per la visione!